In sala la prima esecuzione della prima sinfonia c'era Haydn, non si può non parlare della prima sinfonia senza parlare di Haydn, tanti debiti? Il precursore di Beethoven dal punto di vista sinfonico è Haydn, assai più di Mozart, sicuramente c'è questo spirito, da un certo punto di vista c'è un binomio interessante che accomuna Haydn a Beethoven, la ruralità è il buon umore, è il gusto quasi della risata crassa e esplosiva, cosa che pare avessero tutte e due, Haydn in una maniera più controllata, Beethoven assolutamente no, essendo forse l'uomo più libero che si è apparso sulla faccia della terra, non si piegava neanche per salutare l'imperatore, quando è famoso il fatto che lui e Goethe arrivano, arriva la carrozza dell'imperatore, Goethe si inchina, Beethoven non toglie neanche il cappello, come dire, come riaffermare il valore della umanità, della persona più che del ruolo, però diciamo che tutte e due hanno questo gusto per la sorpresa, infatti una delle sinfonie di Haydn si chiama la sorpresa o colpo di timpano e quindi Beethoven sicuramente come sinfonista è assai più vicino a Haydn che non Mozart, anche se nella prima sinfonia il primo movimento è una citazione deformata della Jupiter mozartiana che è la sua ultima sinfonia di Mozart. L'introduzione segue un pochettino gli stili haydniani, anche se Haydn non ha mai avuto il coraggio di cominciare una sinfonia con una dissonanza, cosa che Beethoven invece fa, ripetendola, perché non lo fa solo una volta, è come dire, fa un gesto e non si pente di averlo fatto, te lo fa risentire, come per dire sono conscio di quello che ho fatto, non è un errore, e quindi pur inserendosi in un'ottica assolutamente tradizionale e classica, già Beethoven fa presagire, oserei dire una personalità debordante, una personalità che era difficile controllare, probabilmente solo lui poteva controllarla, né Haydn né Mozart né nessuno, comunque sicuramente la prima sinfonia paga un debito molto forte a Papa Haydn. Sul finale della prima sinfonia si dice che nell'introduzione del finale ridessero e poi le critiche erano che Beethoven non sa fare i finali. Beh ma bisogna sempre un po' contestualizzare, parola che odio ma adesso la utilizzo, contestualizzare il periodo dell'epoca, chiaramente nessuno aveva scritto un'introduzione a un finale, mentre Haydn scriveva molte introduzioni al primo movimento, invece Beethoven a un certo punto dice adesso io faccio anche un'introduzione al finale, è chiaro che la gente ride perché è la formazione di una scala a cui aggiunge una nota e poi un'altra e poi un'altra per poi sfociare invece in questa scala che diventa l'incipit dell'ultimo movimento, che ha un sapore assai più degli altri tre movimenti, un sapore Haydniano. Però quando c'è la seconda idea tematica, questo anche senso quasi scherzoso, gioviale del giovane Beethoven che sta ancora bene in salute, che sta cominciando ad avere i primi successi a Vienna, siamo nel 1799, che in qualche modo ha questo grande mantello di Haydn che lo copre e che lo promuove, quindi è nel pieno della sua forza, vede un futuro davanti straordinario, non ha ancora nessun problema di salute, ha un certo successo anche in campo femminile, quindi diciamo che è il Beethoven nel massimo della sua forza, non ha paura di nulla e si impone come personalità nuova e un po' rivoluzionaria, un po' bizzarra nella paludata civiltà viennese di quel tempo. Passiamo alla terza, l'incipit non è più un adagio, è un incipit perentorio e un musicologo ha scritto, è come se Beethoven dicesse, silenzio, sto per parlare, adesso dovete stare a sentirmi. Qualcosa ci dice che nella terza è già cambiato qualche cosa? Sono assolutamente d'accordo con questa affermazione, i due accordi sono, alcuni dicono è un sipario per attirare l'attenzione, io dico che sono due sberloni, che è ancora meglio, perché Beethoven con queste strappate, con questi due accordi, perché la sinfonia comincia con la terza battuta, non con le prime due battute, con i primi due accordi, in realtà Beethoven non è che chiede scusate vorrei cominciare, se non vi dispiace fate silenzio che adesso comincio la mia terza sinfonia eroica, tra l'altro buona parte, poi cancella la memoria di un grande uomo. No, lui arriva lì e dice adesso vi do due schiaffoni, chi non ha capito va fuori, chi si è offeso va fuori, ma questo è il mio modo di cominciare questa sinfonia, che ha lo stesso effetto che aveva la dissonanza della prima sinfonia, cioè la dissonanza della prima sinfonia ha avuto lo stesso effetto, il pubblico avrà cominciato a dire ma cos'è questo e allo stesso modo con la terza, con questi due gesti, due accordi, ottiene lo stesso effetto, cioè Beethoven si impone, Beethoven non accetta che il pubblico vada a sentire un concerto perché deve mangiarsi il sorbetto o coltivare le relazioni sociali, no, questo è quello che io vi voglio dire, quindi già con questa perentorietà lui si pone come un compositore che ha un'alta consapevolezza di sé, che ha una grande coscienza di quello che vuole dire e ha una grande stima verso se stesso e più che verso se stesso, verso il messaggio che lui vuole convogliare nella società del suo tempo e chiaramente l'eroica, il primo movimento dell'eroica è il movimento più lungo sinfonico da Mozart fino a Brahms, 691 battute, nessuno aveva osato scrivere un movimento, neanche la nona sinfonia, il primo movimento è così lungo come quello della terza e poi ci sono tre movimenti, tre gruppi tematici, c'è uno sviluppo straordinario, addirittura nella terza Beethoven scompiglia le carte perché il primo movimento ha appunto, ripeto, tre gruppi tematici, lo sviluppo straordinario, poi fa una falsa ripresa che vuol dire che ci fa credere che ci fa risentire l'inizio e poi non è così, poi al secondo movimento mette una marcia funebre, già questo è un altro elemento di novità, chi chi poteva aspettarsi una marcia funebre, come secondo movimento di una sinfonia, una sinfonia che vuole essere grande, che vuole essere immensa e la cosa pazzesca è che anche qui ci sono tre elementi tematici e uno dei tre elementi tematici viene utilizzato per scrivere quel grande fugato che è la parte centrale del secondo movimento. Poi a un certo punto cosa fa? Dici, va bene, adesso vi faccio lo scherzo. Lo scherzo era già un termine utilizzato nella seconda sinfonia, però prima si chiamava menuetto, ma anche nella prima sinfonia il menuetto è scritto allegro vivace con brio, ci ha fatto capire che anche quello è uno scherzo, è una presa per i fondelli a tutto il pubblico che lo ascoltava. Il terzo movimento è un moto perpetuo, dove l'orchestra deve suonare, assolutamente con una regolarità ritmica inesorabile, l'inesorabilità del tempo in Beethoven è una cosa fondamentale e il trio cosa fa? Utilizza tre strumenti, i tre corni che non avevano mai avuto la possibilità di avere un trio in uno scherzo, in un minuetto e li utilizza come strumenti concertanti, tra l'altro con un virtuosismo, non oso neanche immaginare gli strumentisti di quel tempo, che non potevano probabilmente eseguirlo, straordinario. Poi a un certo punto il finale dice, fa la stessa cosa, alla fine del terzo movimento lui avrà immaginato, ci sarà un po' di brusio in sala, ecco io faccio ancora un'introduzione prima di far sentire il tema. Immagina la reazione del Polizio, e che vuole questo? E poi con i pizzicati, pum, 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 che è Mickey Mouse, voglio dire Topolino e Tom e Jerry, che poi ribatte con i legni, e poi crea una struttura sinfonica, di un movimento sinfonico, di sinfonia, dove c'è tema e variazioni. Poi ad un certo punto fa due elementi fugati, cioè scrive due fughe all'interno, non rinuncia alla forma sonata e alla fine fa un'introduzione alla coda, dove c'è il solo dell'oboe, e poi fa la stretta della coda. Cioè praticamente cos'è questo movimento? È un tempo in forma di sonata, sì, ma è anche un tema e variazioni, sì, ma c'è anche l'elemento contrapuntistico, sì, e c'è anche un'introduzione alla coda, sì, ma che è? Chi lo poteva inventare? Beethoven. Quindi scrive un qualcosa che da un certo punto di vista è un mostro, è una persona, è un cane a sette teste, però lui riesce a mantenere con la sua potenza creatrice questa cosa. A me piace questo esempio, lui riesce a far esplodere veramente la bomba atomica 5 chilometri sotto terra e percepisci che questa cosa è una cosa devastante, ma lui ha il potere di controllarla. Beethoven non lascia mai macerie, fa esplodere delle bombe atomiche, ma riesce a controllare i risultati dell'esplosione e questo è straordinario. Altri compositori fanno esplodere bombe atomiche compositivamente e poi non sanno controllare il risultato di questa esplosione. A Beethoven non capita mai, il senso della forma, il controllo della struttura non viene mai meno in Beethoven, anche in un movimento come il finale che è abnorme, che è la somma di tutte le forme musicali conosciute fino a quel momento, raggruppate nel finale di questa sinfonia straordinaria.